Ciao ragazzi, ore 5 del mattino, siamo qui con Teresa, la mamma del festeggiato. Teresa, quanto ci siamo divertiti questa sera insieme a Gianluigi? Ci siamo divertiti tantissimo, l'animazione è stata travolgente e non invadente. Francesco è riuscito a coinvolgere tutti, sono rimasti tutti soddisfatti della riuscita della festa e io sono super felice. Ok ragazzi, anche questa sera ci siamo divertiti alla grande, un saluto da Fornelli, provincia di Isegna. Ciao!